Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Esagera forse chi paragona la situazione attuale della Spagna, in mano alla sinistra e a tutte le possibili derive populiste e anticattoliche, a quella del 36, che provocò la reazione dei generali e di Francisco Franco. Esagera forse, ma certamente il clima ideologico e di contrapposizione su cui faleva il governo per nascondere le sue vistose carenze, soprattutto nella gestione della pandemia da coronavirus, è dei peggiori. È ancora fresca la memoria della polemica per lo spostamento delle spoglie mortali di Francisco Franco dalla Valle dei Caduti, il memoriale che egli stesso volle affinché i morti delle due parti, che si affrontarono così ferocemente nella guerra civile, riposassero insieme. È di questi giorni la notizia di un nuovo escamotage con cui il governo cerca di distogliere l'attenzione dalla gestione della pandemia e dalle sue contraddizioni interne. Martedì della settimana passata il Consiglio dei Ministri ha approvato il progetto di legge sulla memoria democratica e i diritti umani, che mira a mettere fuori legge la Fondazione Francisco Franco, a insegnare una nuova materia nelle scuole, cito, sotto il paradigma di non perdere mai più le nostre libertà, a creare una specifica procura di riparazione per le vittime, così da pagare con i fondi pubblici l'esubazione delle vittime di Franco dalle fosse comuni e ad annullare i processi del regime di Franco. Tuttavia, oltre alle misure già previste, c'è la novità della riassegnazione della Valle dei Caduti. La fondazione dei monaci benedettini, che finora hanno gestito l'abbazia e che si erano opposti al trasferimento delle spoglie di Francisco Franco, sarà giudicata estinta grazie alla desacralizzazione del Tempio. Fino alla loro estinzione, dice il governo, ci sarà un regime transitorio che regoleremo per decreto. Quando questo accadrà alla Valle, sarà riassegnata e diventerà un cimitero civile che renderà omaggio alle vittime di entrambe le parti. E si sta addirittura considerando la demolizione dell'emblematica Cruz del Valle de los Caidos, la grandissima croce, sulla quale l'esecutivo rifletterà, secondo le parole della prima vicepresidente Carmen Calvo. La vicepresidente Calvo ha iniziato la sua presentazione difendendo la tesi secondo cui la migliore forma di riparazione è quella di dichiarare nullo qualsiasi processo che ha portato all'esecuzione e alla fucilazione di persone importanti come il presidente Compines, ha detto, accogliendo la recente richiesta del presidente catalano Quim Torra per cui il governo dovrebbe scusarsi per quell'esecuzione dei tempi di Franco. Il disegno di legge prevede diverse misure come la messa al bando della fondazione Francisco Franco e l'aiuto economico per l'esumazione delle vittime del franchismo trovate nelle fosse comuni, la cui identificazione e successiva sepoltura avverrà attraverso la creazione di una banca del DNA e sarà pagata con fondi pubblici. A tal fine sarà creata una specifica procura per riparare la loro memoria. E per quanto riguarda la fondazione Francisco Franco, Calvo ha dichiarato che non sarà possibile per associazioni di diversa natura giuridica esistere con risorse pubbliche e che esaltino figure dittatoriali come quella di Francisco Franco. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org www.radioromalibera.org